300 firme raccolte e una petizione depositata in comune. I cittadini del villaggio Ledimar non ci stanno a passare per residenti di una collina dimenticata. Strade sconnesse, marciapiedi dissestati, carenze nei servizi e isolamento nei trasporti. Sono queste le criticità esposte dai residenti. In molte parti il manto stradale si è sollevato, ci sono delle vie come via del Petri Rosso che è completamente da rifare. Ci sono anche in tutte le altre vie tutti i marciapiedi da rifare perché sono in vasi d'erba. Ma soprattutto volevo porre l'attenzione nel marciapiede che è posto tra via delle Rondine e via della Capinera proprio per un problema grave di sicurezza perché c'è un'enorme pendenza e occorre assolutamente recitare, mettere un guardrail oppure una staccionata di legno. Dobbiamo tenere presente che c'è quasi uno strapiombo in alcuni punti di 15 metri. E anche le macchine, essendoci una grossa curva, le macchine se per caso sbandano, perché potrebbe anche succedere, non prendono la curva e fanno un volo enorme. Noi a differenza delle altre zone non abbiamo un circolo, non abbiamo niente dove incontrarci per poterci anche conoscere perché noi fino a pochi mesi fa non ci conoscevamo. E questa è una cosa molto importante secondo me la socializzazione. Altra problematica è la problematica del tram, sia per quanto riguarda le pensiline che mancano, ne abbiamo soltanto una al capolinea, ma noi abbiamo altri due punti dove appunto si ferma il tram, soprattutto qua in fondo proprio all'entrata della piscina, avremo bisogno delle pensiline. Le potature non possono avvenire una ogni quattro anni, noi abbiamo bisogno di una presenza costante dell'amministrazione nel taglio dell'erba, perché qui l'erba cresce ma soprattutto abbiamo degli alberi enormi che sono diventati altissimi, sono diventati secchi e quindi possono cadere, possono essere pericolosi sia per le autovetture che per le persone. Avremo anche necessità di uno sgabbatoio per i cani, con tutti i posti che abbiamo voglio dire non ci vorrebbe molto a trovare un posto, a dividere, a mettere una panchina e a circondarlo da una rete. Sempre per quanto riguarda il verde, noi abbiamo un parco per bambini, è un parco completamente abbandonato, non abbiamo un gioco che funziona. Altro grave problema sono le isole ecologiche, ci sono bidoni che mancano, insufficienti, soprattutto quelli del verde. Molte persone portano tutta la loro l'erba, tutto lo scarico del tralcio dell'erba, ma passano mesi prima che l'amministrazione venga a pulire quella, ma non solo, anche i cassonetti sono tutti completamente sporchi. Chiediamo una ciclabile che da Loreto percorra tutta la strada dei Colli e arriva fino sotto da noi, qui alle colline dell'Edimar e la possibilità quindi una volta arrivati lì di poter portare su la bicicletta tramite il tram, cioè mettendo praticamente un portabiciclete nel tram, che ormai è uno strumento che in molte altre città i comuni hanno utilizzato. Molte persone all'Edimar salgono anche a piedi. Avremo bisogno che le due strade di collegamento siano dotate di una piccola stradina laterale. Ci sono le potature, ma i residenti reclamano a gran voce un diserbo delle aree verdi che sconfinano sui marciapiedi. Questi ultimi sono anche spesso accompagnati da caditoie che non funzionano. Sono costruite in un modo tale che l'acqua è convogliata contro il marciapiede, non così. Quelli scivola sopra, soprattutto quando piove ha dirotto. Solo l'acqua, la pioggia è inutile, quella lì va lì dentro, ma quelle utili non vanno per niente dentro, ma devono essere convogliate contro il marciapiede e lì fargli una nicchia in modo da non farla scivolare via. La protesta intanto ha già prodotto qualche risultato. Nella palestra del quartiere sono infatti stati appena riqualificati i servizi igienici, ma i problemi restano come quelli di una videosorveglianza a lungo invocata. Non è stato facile individuare innanzitutto le possibilità, i punti dove mettere, perché non ci sono i ripetitori, perché comunque bisogna riprenderli in entrata e in uscita. Non è stato facile mettere in piedi tutta questa cosa con una ditta di Rimini, tra l'altro che era l'unica che poteva collaborare con i sistemi operativi che c'ha già la città di Pesaro. È importante perché comunque ci sono già stati incontri con i residenti, i residenti lo vogliono, i residenti sono disposti anche a mettere qualcosa di loro, per cui credo che valga veramente. I tempi sono maturi, il capo dei vigili urbani ci aveva dato tutto il suo sostegno, il capo allora della prefettura lo stesso era venuto al colloquio qua su e ci aveva dato così un grande aiuto, per cui adesso stiamo cercando di portare insomma a conclusione la faccenda della problematica delle telecamere. L'Edimar Dimenticato significa anche dimenticare la bellezza naturalistica di una collina che è un polmone verde che si affaccia con bel panorama sulla città. Io quando veni a abitare qui ho scelto questo posto per la sua bellezza, perché appunto queste case sono collocate in mezzo al verde, è un luogo tranquillo, l'Edimar è ben collocato nella natura, per cui questo è un punto di forza di questo quartiere che dovrebbe essere valorizzato. Poi con il Covid abbiamo anche scoperto che ci sono tanti sentieri qua e sono tutti qui dietro, fino alle fonti di Sayano che sono storiche, sono state abbellite all'epoca da Lazzarini che è un architetto pesarese famoso e qui ci sono tanti turisti che girano, perché molti di questi piccoli appartamenti vengono adibiti a bed and breakfast, anche le belle ville che si vedono qua, che sono veramente belle, ecco molte di queste ospitano turisti, per cui ci sono tante possibilità anche per il turismo in questa zona.